Dedicato con Emi Schilla Bella raga, sono Steven Baselari Spesso mi chiedete di esprimere il mio giudizio Dei vari artisti che me ne hanno a number one Ovviamente per una questione di rispetto non l'ho mai fatto Ma oggi voglio parlare di Emi Schilla Una persona che con me si è comportata veramente male Come sapete l'ho invitato spesso anche a Frassalata a number one Però lui si è sempre presentato in ritardo Ha sempre risposto male sia a me che al mio staff L'ultima volta ha fatto un disastro, un camerino Ha fatto che ha detto le bottiglie Sì, mi hai detto facciamo il video virale Ti spuntano un po' mi sono venuto a fare la figura di me Un po' mi lanciano in pomodoro la prossima E' tutta una cazzata Bella raga, sabato 28 gennaio Questo sabato Emi Schilla sarà ospital number one Ovviamente lui è uno dei miei artisti preferiti Sappi però che ho annunciato il fatto che non farò più regalo di artisti Brava, ho sentito a mano Così la finiti di grattare, rai per ratti del cazzo Non fatevi delle cose Faceremo un nuovo format Ti farò delle domandine in serata, ok? Su un parco, no? No, no, te la vedi Paghi le tasse In camerino ti farò delle domande anche un po' piccanti Ragazzi dovete aiutarmi a scegliere le domande Da fare a Emi Quindi leggeremo qua nei commenti qualche domanda su TikTok E anche su Instagram Quindi andate a darci guardare sull'elemento Bella raga Fatima raga Grazie a tutti